E' morta dopo una notte in discoteca insieme a tanti altri giovani, Lialu di Massa, ventenne inglese da tempo, residente a Massa Lubrense. La ragazza è morta in un tragico schianto, in un'auto guidata dal fidanzato risultato positivo ad alcol e droga. Il dramma si è consumato in via Partenope tra Sorrento e Massa Lubrense. Il leso Angelo Guarracino, il ventunenne compagno di Lia, che si trova ora agli arresti domiciliari, con l'ipotesi di omicidio stradale. I due, alle sei del mattino, viaggiavano a bordo dell'Aupel Corsa, quando c'è stato il tragico schianto. Vent'anni, nata e cresciuta in Inghilterra, Lialu di Massa si trovava da qualche mese in costiera, ospite del nonno paterno che abita sulle colline di Sorrento. La ragazza lavorava in una nota gelateria del centro. Stando alle prime ricostruzioni, Angelo avrebbe urtato il muretto che delimita un tratto di via Partenope. Il ventunenne, alla guida con la cintura di sicurezza, è rimasto illeso. Per la fidanzata, invece, non c'è stato nulla da fare. La ragazza è morta sul colpo. Lia è la terza vittima delle strade del posto dall'inizio dell'estate. A fine giugno, una 54enne turista polacca era stata travolta da un centauro. Qualche settimana più tardi, era toccato al 48enne Giulio Aiello, l'uomo che viaggiava in sella alla sua moto. Si era scontrato con una vettura che procedeva in senso opposto nello stesso punto in cui era stata travolta e uccisa la turista polacca.